Continua a crescere il numero dei nuovi casi di coronavirus in Liguria. In particolare i dati settimanali mostrano un aumento esponenziale dei contagi rilevati e delle ospedalizzazioni di media intensità. Lo illustra il responsabile prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi, durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'andamento del virus in regione. I nuovi casi sono quasi il doppio rispetto a quelli della settimana precedente, così come è aumentato sensibilmente il numero dei ricoveri a media bassa intensità, da 347 a 598. Rimane contenuto l'aumento delle terapie intensive da 32 a 33 negli ultimi sette giorni. Il quadro epidemiologico è caratterizzato da una Liguria che si muove con un trend simile al resto della nazione, mentre abbiamo in provincia di Genova un aumento, come dicevo, elevato con tasse di incidenza che sono intorno ai 5 su 10 mila giorni. È un numero dei casi che aumenta anche perché il numero dei tamponi e il tracciamento nella nostra regione è incisivo, è importante. I tamponi processati si stanno attestando intorno ai 5 mila giornalieri, crescono poi anche i test antigenici, fondamentali per l'attività di screening sul territorio. Per il momento non hanno valore diagnostico, ma danno una grossa mano ad individuare le persone da testare poi con il test molecolare. Il direttore generale della ASL3, Luigi Bottaro, sottolinea che la maggior parte dei dispositivi rilevati nel capoluogo arriva ad attività di screening e spiega che sarà potenziata la capacità di tracciamento. Prossima settimana avremo un'ulteriore apertura, sempre nell'ottica dello screening, che sarà a Villa Bombrini, che sarà sulla modalità dell'esempio della commenda. Uno dei problemi a Genova negli ultimi giorni è stato quello dei pronto soccorso, sotto stress per i troppi arrivi. Diversamente da marzo, infatti, non sono solo i pazienti con sintomatologia covid a presentarsi, ma anche quelli con sintomi riconducibili ad altre patologie. Arrivare al pronto soccorso solo per avere con la febbre, con la tosse o con la cefalea o con le mialgie, ma senza difficoltà respiratorie, quindi una situazione che può essere gestita tranquillamente a casa, rischia di sovraccaricare ulteriormente il pronto soccorso e quindi di generare ingolfamento e quindi difficoltà.